Ciao a tutti e buon anno. Primo video, prima chiacchierata del 2023. Oggi non era neanche in programma, non avevo in programma di intervenire nelle vostre vite con le poche cose che ho da dirvi. Però un po' di situazioni, un po' di notizie, un po' di fatti ci inducono a fare il punto della situazione. E allora, partiamo subito dal spirito della copertina, Calciomercato Le Ultime. Calciomercato Le Ultime significa Davis Vasquez, portiere colombiano che è in odor di convocazione da un paio di settimane nella nazionale colombiana e che tornerà grossomodo in Italia dopo il 10 gennaio. Quindi non siamo nell'imminenza di un annuncio ufficiale, però dopo il 10 gennaio capirete che Vasquez arriverà al Milan a titolo definitivo. Quindi non è un acquisto per adesso, non è un acquisto per Salerno per questo campionato, è un acquisto in proiezione futura, è un investimento che il Milan fa in termini di prospettiva. Quindi vedo già sui social, su Twitter, che è il miglior social del mondo, come sempre si conferma tale, ama chi è. Beh, dicevate chi è anche quando è arrivato Calulu, quando è arrivato Tomori, eccetera, eccetera, eccetera. Non è importante chi è, ma ha quello che succederà. Quindi la notizia di Davis Vasquez, che dopo il 10 gennaio con ogni probabilità diventerà titolo definitivo un giocatore del Milan, non è una notizia che riguarda, ad esempio, la prima reazione potrebbe essere, ah ma allora è così grave il problema di Mignon. Non è minimamente in relazione a Mignon. Quindi per l'attualità della squadra, Davis Vasquez è prospettiva, futuro. Per l'attualità della squadra, dovessero esserci ipotesi interessanti dal punto di vista dei portieri, il Milan le valuterà. Quindi la situazione in casa nostra, per quanto riguarda i portieri, resta in itinere, resta fluida. Davis Vasquez appartiene al futuro, è una scelta che facciamo oggi e che ci accompagnerà negli anni successivi. Non è una questione relativa all'infortunio di Mike Mignon o alle valutazioni di Stefano Pioli, dell'area tecnica, dello staff, su Tata Lusano, su Mirante, eccetera, eccetera, eccetera. Evidentemente è un'operazione che il Milan aveva in animo di fare, ritiene di aver trovato le condizioni economiche di progetto giuste per farla e dopo il 10 di gennaio, con ogni probabilità, diventerà ufficiale. Però non è una questione che riguarda la strettissima attualità, l'imminenza del Milan. Abbiamo ricevuto tutti le notizie di Ballotture, che è la notizia che mi dispiace di più, perché Ballotture è entrato molto bene ad Eindhoven, questa amichevole di Eindhoven la stiamo pagando, la stiamo pagando in termini di prestazione, in termini di risultato, in termini anche di infortuni, perché l'infortunio di Ballotture, ci terrei a ricordarlo, un po' a tutti è un infortunio traumatico, ha preso una dura botta in una zona delicata e dovrà essere sottoposto intervento chirurgico. Però l'infortunio traumatico significa, so che siamo tutti medici, tutti fisioterapisti, tutti preparatori atletici, siamo tutti dei luminari, l'infortunio traumatico ci tengo a ricordare che il calcio è uno sport di contatto, quindi poi non so se anche l'infortunio traumatico è sintomatico di una colpa, però succede che se c'è un trauma, il calcio è uno sport di contatto e anche noi luminari di medicina, di fisioterapia, di preparazione atletica lo sappiamo, uno sport di contatto può capitare evidentemente che possa esserci un inconveniente di questo tipo, un problema, un dolore e poi la necessità di rimettere a posto le cose chirurgicamente. Teo Hernandez si sta allenando a Milanello, quindi da questo punto di vista vi do questa notizia, per cui vedremo quali saranno le scelte di Stefano Pioli. In vista di Salerno spiace per il ragazzo, Ballottione è un ragazzo dolcissimo, ha fatto il mondiale, è un professionista serio, a Empoli ci ha tirato via fior di castagna dal fuoco, adesso speriamo che questa sua operazione ci consenta di riavere il prima possibile il giocatore, intanto per la sua salute, perché noi parliamo sempre dei nostri egoismi, delle nostre necessità, della nostra voglia di rivedere in campo i giocatori, però qui c'è comunque una persona che deve subire un intervento chirurgico e speriamo che possa superarlo al meglio possibile possa tornare il prima possibile, però prima la salute della persona, poi le nostre considerazioni. Problema muscolare per Rebic, io ormai purtroppo temo tutto e quando non ho visto rientrare Rebic nell'intervallo di Eindhoven ho temuto, me lo sono tenuto per me, ho temuto e niente, mi spiace anche per Ante, so che adesso fioccheranno fior di polemiche, fior di cose, io voglio iniziare il 2023 con un francesismo, perdonatemelo, concedetemelo, non facciamoci troppe menate, a Salerno giocheremo in undici, Ante ormai siamo abituati a far conto su di lui quando c'è, quando ci sarà e recupererà da questo problema muscolare, saremo felici di riaccoglierlo con noi e di tornare a sperare nei suoi guizzi e nei suoi giocati, altro di intelligente non ho da dire, poi naturalmente arriveranno sentenze, arriveranno anatemi, arriveranno considerazioni di vario genere, però alla fine a calcio si gioca in undici, giocheremo a calcio in undici a Salerno, giocheremo a calcio in undici con la Roma e così via, ed è questo lo spirito che dobbiamo tornare a recuperare, andiamo in campo in undici e giochiamo con lo spirito degli undici che danno tutto, ecco, perché evidentemente se anche al mister qualcosa non ha sconfinferato della prestazione di Eindhoven, evidentemente c'è bisogno di tornare a recuperare un po' di cose che ci facciano giocare con il giusto spirito in undici, chiunque siamo, perché noi, ripeto, nel 2020-2021 in clamorosa emergenza e infortuni siamo andati a insegnare calcio a Old Trafford e quella squadra che insegnava calcio a Old Trafford in Europa League nel febbraio del 2021 non era quella che ad esempio io ho visto ad Eindhoven e abbiamo visto tutti ad Eindhoven l'altra sera, quindi questa è la cosa importante. Per tirare le fila, per tirare le somme, mi sembra che la politica che ha indotto il Milan a prendere Davis Vázquez che arriverà con lo stesso spirito con cui è arrivato Calulu, con cui è arrivato l'Azetic, sia la politica di questa società. Abbiamo sempre detto, vedevo dei commenti su Twitter su cui cerco di tenere la calma, abbiamo sempre detto che la nuova proprietà di Redbird e di Jerry Cardinale è in continuità con la precedente, per cui la politica sui prospetti, sui giovani, sui progetti su cui credere, su cui lavorare per il futuro, resta la politica del Milan. Quindi non capisco quale possa essere l'obiezione se non si conosce il nome di un giocatore. Se non si conosce il nome di un giocatore bisogna intanto informarsi. Secondo, capire che più volte al Milan sono arrivati giocatori di cui non si conosceva il prospetto, di cui non si conosceva la potenzialità, di cui non si avevano molte informazioni e poi hanno fatto bene, caluro su tutti. Poi io non so come andrà con Davis Basquets, però mi sembra che per età e per capacità di coprire il mercato a 360 gradi, mi sembra che sia una operazione che testimonia l'attenzione del Milan su tutti i fronti aperti. Poi ripeto, se per la stretta attualità, se per le prossime partite, se per i prossimi impegni, se per l'inizio del 2023, al Milan verranno proposte piste relative ai portieri degne di interesse, il Milan ne valuterà. Quindi Davis Basquets non esclude nulla, non significa nulla in termini di infortunio di Mignon ed è destinato ad essere un'operazione in totale proiezione futura, in totale prospettiva. Ciao a tutti e a domani. Grazie.